oggi finiremo finalmente la mappa ctm di minecraft dunisiani bellissimi e amorevoli esatto avete capito beh perché vi ho chiamati così non lo so comunque siete bellissimi allora e perché finiremo la mappa ma è perché sono stupido non so parlare allora oggi finiremo la mappa perché praticamente in pochissime parole mancano solamente tre isole cioè dunisiani siamo alla fine cioè non so se vi rendete conto ma siamo alla fine quando non però stare un po attenti perché sono poi dopo qua va a finire che se no caschiamo giù e è qua allora perché noi dovete sapere che per finire la mappa dobbiamo completare tutte le mappe dobbiamo avere tutte le isole insomma tutte tutte le lane la le lane perché una mappa ctm vabbè c'è nel senso ma porca miseria che ci ho messo tre ore ma avete stavo per morire ma sei pazzo comunque ho trovato la cesta finalmente e lo sapevo io abbiamo trovato la brown wool va che bellezza ma che bellezza abbiamo trovato la lana marrone stavo pure per scordarmi il nome della brown wool cioè perfetto no allora io mi sono appena accorto che questo microfono l'ho messo a quel paese proprio come deve andare a quel paese la mia testa per non dire qualcosa vabbè comunque iniziamo a scavare da qua a che simpatici questi qua della mappa però ovviamente adesso farò un taglio perché non è che vi faccio vedere tutto è cioè ok perfetto allora ho la lana purble voi sapete qual è il colore purble il colore purble sarebbe viola mi pare vabbè sì è viola perché c'è il colore si vede che è viola non è tipo adesso vedete che scoprite magari gli altarini che in realtà magari ho uno schermo tipo non ha colori no del 1974 no 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 non è così non è così giuro che non è così allora quello che dobbiamo fare ora è prendere tutte le lane che abbiamo qua se ne abbiamo no però mi sa che non le va messe ok le va messe via proprio allora praticamente prendere praticamente quelle lane insomma perché ci manca praticamente solo una lana e abbiamo completato il monumento se non mi sbaglio è perché poi magari potrebbero mancare altre lane la e allora quello sarebbe un piccolo problema però ovviamente l'obiettivo principale era esplorare tutte le isole il mio obiettivo perlomeno perché diciamo la ctm nel senso mi piace far vedere farvi vedere a voi però non è che dobbiamo stare la a fare tu a far romperci le scatole cioè alla fine deve essere un video di intrattenimento non vi troviamo le lane eh perché sennò mi mettevo come fanno a volte alcuni no che si mettono la no e fanno tipo oggi scaviamo gli alberi ah che bello scavare gli alberi scaviamo gli alberi no dai scherzo scherzo eh non offendete quelli che lo fanno non si offendano minimamente non è un'offesa affatto però potrebbe essere almeno per come la vedo io è un po' noioso per me e poi boh allora però certo che pure dunis se scava la terra beh non è che sia così tanto diverso dagli altri eh vabbè vabbè a volte si pecca eh anche su ma perché stiamo parlando di ste cose però scusate io qua non sto parlando niente allora signori ah lo sapevo ah e qua c'è la lana bianca allora la lana bianca che sembra porca miseria comunque abbiamo completato tipo tre mappe quindi allora perché perché funziona così perché praticamente no quando completiamo una mappa dobbiamo suonare no e facendo pure magari un gesto un po' brutto con la mano vabbè però l'importante è no dunis 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 allora perfetto abbiamo completato tutte le mappe dunisiani direi che questa mappa l'abbiamo completata io non so se porterò altre mappe ctm non lo so perché adesso è arrivato il momento di dire basta questa serie perché vedo che vi piace cioè nel senso non è che non vi piaccia a voi però secondo me non è che vada tanto bene poi diciamo che preferisco non portarvi più questo questo genere di video però tranquilli che arriveranno altri generi di video molto più divertenti e belli da vedere da giocare e da cantare lo so devo essere meglio di justin bieber allora non prendete in giro prima di tutto perché se no poi dopo guardate cosa faccio e non va bene quindi se siete arrivati fino a questo punto del video ricordatemi nei commenti di mettere il microfono in questo punto e di non sputare nel microfono e soprattutto quello soprattutto mi raccomando e noi ci vediamo al prossimo video ciao dunisiani Ciao